Ciao a tutti ragazzi e benvenuti da Spanema di Sable Siso 3 Questo nemico è troppo vicino per i dati, usa l'altisima e perciore per si schiavare i suoi proiettili Ora il calmento è in corso Dobbiamo battare questa donna, quella ragazza Formale Dunque il so che non avevo a parlare soffrendo qualcuno qui E' un laboratorio di sicurezza Furnamente il mio trattore lavora qui, conosco i suoi sostenimenti della sicurezza meglio qualunque altro Di tranne forse sta ricordando di questi fornamenti Desta riparizione è conformata rispetto fino all'inizio E di questo fornitore è un'idea fornitore senza legno Che questo significa che devo scegliere le... per dire cadere le mie mani fuori miei Rivelarli Dottore deve essere... Cavolo mi ha pegato Fino a me ci si contiamo, sono solo il negozio, il capo dell'essere Rick Non ho mai sentito parlare, lo so, questo si chiama l'immagine Ah allora vuol dire un grande piano, vuoi dippi le sono tra sempre uno? Potrei uccidere, pure spiegati tutto e poi uccidere E poi cedierò la prima mappazione Grazie di... Compute, il questo fornitore con peggio, arriviare le sceliture da tra i 10 secondi 10 secondi? Non basteranno un'altra battuta di scelta estruzione? Oh vedo che sei rimasto male Addio spanne ma è peccato, eri bomba Ah non ci si fa da... ci sa fare Ah... Ah... Is it pizza or is it high? Ah... Grazie a tutti Ah, questo parebbe funzionare Ho benvenuto di essere spalle Le anni e domani sarò uccisi E ci condemmo tutto il mio capolavoro E' fantastico, non ne trovi? Beh, che significa? Beh, ho visto uno di quel fare Non è possibile Dico che dici invece Si tratta di un autore recedente Con un unico listente Sarebbe questo allora un... Forse ha detto di stupirà? E allora il potere migliore Se l'ho l'e sotto il mio controllo Ora il mondo è dei miei mani Tutti saranno il mio nome Oh, è solo cuore Ok, devi caricare il tampoportale Che parte prima cosa da scoprire dov'è Ok, devi andare a scoprire la scoprire Ok, devi andare a scoprire la scoprire Orbiti Grazie a tutti. 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 No! Grazie a tutti. 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 No? Grazie a tutti. 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 2-2. E mancano due. proviamo. Sì, sì, e... Grazie a tutti. No, accidenti a te, hai rotto il mio, quindi il mio braccio non funziona più. Beh, spero che loro tu abbia affrontamento gigante, biondo gigante. Ehi, sei scappato proprio in mezzo al mio scherzo. Direi che era anche divertente, nemmeno nel cappio ha la forza di te. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.